Bene ragazzi sono FaiFai e questo è un nuovissimo, fantagorisissimo, fantagorisissimo Va bene, questo è un nuovissimo video su Mineard 4.0 Andiamo in Mineard Ok, eccoci in Minecraft Ora con molto entusiasmo andiamo in Mineard 4.0 Perché non si vede l'icona, perché non si vede Ok, ce l'avamo lasciati qui E io lascerò sempre questo spacco originale di Minecraft perché è molto fashion E io non so cosa fare Aspetta, lei è la mucca che non verrà mai, mai Ma dico mai uccisa Io direi, aspettate un attimo All right Ora siamo a posto Che palpebre Ok, ok Ora ok, qui va tutto Non posso sbragarmi Perché non posso sbragarmi Il lurido Minecraft schifoso Che mi fa registrare queste cose Ora tu vai qui Raccogli tutta la legna Che è molto importante Per sopravvivere Anzi La ci vuole un albero No, come ci vuole un albero Boh, non mi ricordo Boh, non mi ricordo Boh, io non lo so perché Ma perché non mi ricordo Nulla Boh, 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 boh E che cazzo è lì Instagram C'è, c'è Ora faccio pubblicità C'è un noto personaggio Che si chiama Isan Grax Grax È uno youtuber Penso che non lo sarà mai lui Grax Vero Che porta Clash Royale È un cristiano Che ha messo mi piace Tutte le mie 32 foto Non so il perché Perché Se tu guardi questo video Isan Grax Commenta e dimmi il perché Perché tu lo hai fatto Ora voglio Che me lo spieghi Ora Perché parlo così Vabbè comunque Queste mucche vanno sterminate Sì col piccone Io L'avete mai visto una persona Che ammazza Le mucche a picconate Ah e io stasera Cioè no stasera Nella vita vera Stasera in Minecraft Direi che Devo andare a caccia di Spider Perché i spider Mi danno La L'aragnadela E con l'aragnadela Io faccio Il Cosa lì Vabbè Il letto E non trovo più il mio albero Cioè no Vabbè Non trovo già più la mia Casa Che Oh mio dio No John Creeper No eh No che palle Il telefono No no Rave no Che palle Ok eccoci dopo L'interruzione Del telefono C'è stato Il lavaggio Del cervello No non è vero Per fortuna E ho ritrovato La casa Perché io sono Oltre a Powa Jesus Questo va qui Qui hai finito Beh i voci In questa serie Devo dire Che Non c'è mancanza Ecco Me la so buttata Wow Perché io me le tiro le cose Però Non si devono tirare le cose 9 10 Va bene Lo stesso Però Ok Questo va qui Ora andiamo a cercare Di ragnatelle Qui va bene La munca Qui è uno zombie Che va Eliminato Al più piastro No te prego Non voglio morire Merdina È il mio primo combattimento Ok Questi Pugoli Per ora Li lascio Ma perché non si può Fare con le piume La lana Boh Io non lo so Ok Ora così Così Lì ci stanno Gli scheletri No Lì non ci andrà mai Devo solo cercare Dei ragnatele Mica chiedo molto Delle Fottute Ragnatele Delle Fottutissime Ragnatele Ah che ve stava No Mi sa che ve stava Dì che è successo Un casino A scuola Perché vabbè Non so se ve lo racconto Va bene Sì che ve lo racconto No 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 Scappa 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 Sì In tre Merde Oh ecco Il ragno No 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 C'ho un cuore C'ho un cuore Scappa C'ho un cuore C'ho un cuore C'ho un cuore C'ho un cuore No 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 Non voglio perdere la serie Scappa sotto 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 Oh mio dio Regà mi so salvato Mi so salvato Oh no Che culo Che culo raga Che culo Oh mio dio Che culo Che culo Oh mio dio Che culo Che fottutissimo Culo Oh mio dio Oddio C'è il cuore a mille C'è non solo molto Ora io direi di rilasciare Peggio nelle Peggio delle bedwars Facciamo una rush Molto Brutale Scappa scappa Allora Ah no perché io avevo visto uno scheletro E mi ero molto impaurito Perché io sono Sono terrorizzato dagli scheletri Dalla 1.10 Come sto urlando Mai nella vita Oh no 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 Scappa 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 No non morite Prego ti supplico No 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 Vaffanculo Ah Il dolore mi sono fatto pure malissimo A Sono pure morto Vaffanculo E ora vediamo il mondo Non posso aspettare il mondo io nelle serie hardcore faccio schifo raga ho perso tutto va bene va bene però c'è io non so più che fare questo video mi ricordo di iscrivervi in descrizione di su instagram e facebook alla pagina facebook sul gruppo telegram in descrizione ho finito la voce aspettate che voglio vedere se vado così e trovo di diamo no perché faccio del teleport team member what the fuck ok e da me da spirito che non mi si vede bella raga